Denunce e querela non sono la stessa cosa. Tu guardala in questo modo. Tutti e due questi atti servono a mettere a conoscenza l'autorità giudiziaria di un reato, però mentre per esempio io posso denunciare una rapina che ha subito un'altra persona, quindi non io personalmente, non posso invece querelare qualcuno per un reato procedibile a querela, appunto, che non ho subito io personalmente, quindi non potrò querelare qualcuno per uno schiaffo o una truffa che ha subito mia suocera. La querela, infatti, a differenza della denuncia, può essere esporta solo dalla persona offesa e deve contenere un'espressa istanza di punizione per il querelato, cioè tu lo devi scrivere proprio io voglio che tizio venga punito per le lesioni che mi ha cagionato, per la tuffa che mi ha fatto e soprattutto, a differenza della denuncia, ha un termine, un termine di tre mesi nella maggior parte dei casi, dal fatto o dalla conoscenza del fatto per la sua proposizione. Scaduti questi tre mesi non si può più querelare. È il diritto penale. Che stè?